È una domanda mica troppo semplice. Il design, ok, va bene, nel nostro DNA siamo d'accordo. Perché sposa la tecnologia? Perché comunque il futuro è questo. Io ne ho sempre sentito un gran parlare quando mi è stato proposto di applicare qualcosa che parla di futuro nelle nostre cucine. Ho sposato subito l'idea ed eccoci qua. Il design è una cosa molto importante naturalmente. Non possiamo perderlo di vista perché è quello che ci ha sempre caratterizzato fin dalla nascita. Io quest'azienda l'ho acquistata solamente 25 anni fa, per cui mi mancano i primi 35 anni di storia. Però praticamente ho trovato già nell'acquisto dell'azienda, ho trovato nel suo DNA la volontà di fare un prodotto di qualità, di design. Perché poi è l'unica strada per un'azienda piccola-media come la nostra per poter avere un minimo di successo. Non potremo mai competere con le aziende che fanno solamente grandi numeri e non badano a quello che è invece il risultato esteriore. Quindi sicuramente è fondamentale per un'azienda del nostro tipo.